SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Van de Mortele, l'azienda belga di prodotti da forno surgelati e ci troviamo in compagnia di Valeria Baiano, la marketing manager del settore food service. Bentornata Valeria. Buongiorno Fabio e benvenuta al nostro stand, è un piacere ritrovarti. È un piacere ritrovare i vostri profumi inebrianti, i prodotti che vengono preparati abitualmente proprio nel corso delle fiere per far assaggiare la vostra qualità indiscussa ai vostri clienti. Hai proprio ragione, mettiamo sempre tantissima cura e il nostro anche reparto di ricerca e sviluppo lavora continuamente per fare prodotti innovativi e con un alto livello di servizio per gli operatori professionisti del canale food service. Il food service sappiamo bene che prevede tanti micro canali, voi vi siete concentrati a partire da quest'anno su tutto ciò che è ospitalità per migliorare ulteriormente le performance del servizio di ospitalità. In che modo? Assolutamente sì, oltre al bar che è sempre stato il nostro canale principale, quest'anno, il 2023, sarà un anno importante per noi per iniziare a lavorare in maniera concreta sul canale hotel. Abbiamo creato per questo una intera gamma di prodotti mini dedicati a questo canale, ma soprattutto la novità importante di quest'anno è non solo prodotti ma anche soluzioni. Attorno al prodotto tantissimi progetti per aiutare e guidare e far massimizzare i profitti ai professionisti del settore. Questo è il nostro grande impegno per il 2023. Soluzioni, soluzioni smart, ci piace chiamarle. Ecco, io non ti chiedo qualche dettaglio in più, altrimenti l'intervista che generalmente è da 6-8 minuti diventa di 60-80 minuti, ma puoi darci qualche piccolo esempio? Assolutamente sì, innanzitutto la nostra immagine. Abbiamo un nuovo logo, Van de Mortel è diventato Van de Mortel Professional, proprio per sottolineare l'impegno per i professionisti del settore e la nostra ambizione che abbiamo di crescita all'interno di questo canale. Quindi ci presentiamo già come un partner potente per i professionisti del settore. E questo sicuramente è il nostro primo grande passo, ci presentiamo già in grande. Poi come ti dicevo, soluzioni smart non solo per il canale hotel, ma anche per il canale bar. Quindi vogliamo guidare i baristi per massimizzare i loro profitti nel locale, specialmente per il momento del pranzo. Assieme ai nostri prodotti, ma anche assieme a grandissime pratiche e soluzioni, quindi come esporre, come creare il menu, come massimizzare i guadagni, come soddisfare i consumatori, che sono tanti e di diverse tipologie. Quindi veramente offriamo un pacchetto completo per guidare i professionisti nelle loro operatività quotidiane. Diciamo un metodo per andare a migliorare il proprio business in ambito orecca, ma a tutto tondo. Assolutamente sì, l'impegno per noi di quest'anno e per gli anni futuri sarà veramente un lavoro a 360 gradi, dove l'operatore del canale food service per noi è al centro. Ecco, e allora a questo punto mi prendo la briga di suggerirvi un grandissimo professionista del settore che si chiama Gaetano Barbuto, che è il professionista del breakfast, che insegna agli hotel, agli alberghi, alle pensioni, a migliorare, diciamo anche in quel caso, la performance e secondo me potrebbe essere per voi un ottimo veicolo per andare a mostrare quelli che sono le vostre soluzioni insieme ai vostri prodotti con la sua supervisione, perché è davvero una persona in gambissima. Assolutamente sì, allora Fabio, grazie del consiglio. È un consiglio che naturalmente do a voi e a tutti loro nel caso in cui ne siano interessati. Veniamo però a voi. In che modo è possibile entrare in contatto con voi, con le vostre soluzioni e dunque fruire anche dei nuovi prodotti a disposizione per tutto il canale ore che è nello specifico dell'ospitalità. Esiste un'email, un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere ovviamente? Assolutamente sì, il nostro sito vandemortere.com e poi i nostri canali social Facebook e Instagram sono super attivi, rispondiamo in tempi brevissimi e possiamo rispondere a tutti i quesiti, domande e anche mettere in contatto gli professionisti del settore con i nostri prodotti. Siete super smart. Assolutamente sì, sempre online. Sempre online. Allora Valeria, grazie, grazie per la disponibilità, grazie per aver dato questo contributo e aver dunque erudito i nostri lettori per le vostre evoluzioni nel settore. È un'evoluzione importante, davvero importante. Assolutamente sì, è importante e sfidante, ma ci metteremo davvero tutto l'impegno e grazie mille per essere stato nostro ospite.